Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo per ragazzi e ragazze a partire da 11 anni. Un'avventura che porta i lettori in un mondo segreto pieno di creature magiche, visibili solo agli occhi della protagonista che invita i lettori a esplorare la diversità e l'accettazione. La trama del libro Come un incantesimo, della scrittrice Aumet Neco, pubblicato dalla casa editrice Uovo Nero, è la seguente. Edimburgo è una città piena di creature magiche. Nessuno le può vedere per come sono realmente, tranne la dodicenne Vamia Nox. Quando viene coinvolta nel mondo di segreti e incantesimi della sua famiglia, Ramia si mette al lavoro per scoprire la verità sul popolo nascosto. Con tre sole parole di avvertimento da parte di suo nonno, attenzione alle sirene. Lo scopo della sua missione è quello di andare oltre gli stereotipi e i falsi miti, e di scoprire quali sono le reali caratteristiche delle creature magiche, che a volte sono anche molto diverse da quelle che la letteratura e il cinema vogliono farci credere. Ramia è disprassica, e la disprassia non è esattamente la caratteristica migliore per una strega. Ma, immersa in un'avventura che cambierà tutto per lei e per gli altri, tra vampiri gentili e fate inquietanti, Ramia scoprirà presto che i suoi poteri sono molto più forti di quanto avesse mai immaginato. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.